Io con Gea appunto molti anni fa, circa una decina di anni fa, abbiamo incominciato a parlare di ambiente, alimentazione, benessere psicologico. Il primo nostro intervento fu a Prato davanti a 5-6 persone, mi sembra, non di più. Da allora le cose sono cambiate e senza altro oggi le problematiche sono diventate più urgenti, ma devo dire anche che ci stiamo trovando di fronte a un cambiamento non solo delle tecniche, non solo dell'approccio, ma proprio a un cambiamento di paradigma scientifico secondo me. Certo appunto l'importanza del cibo la possiamo capire anche guardandoci indietro, ma non solo l'alimentazione e un'alimentazione sostenibile sono importanti per il benessere, ma tutto quello che è il campo ambientale. E oggi quando parliamo di ambiente non dobbiamo tener conto solo dell'acqua, del suolo, del paesaggio, ma anche dell'ambiente costruito, anche dei mobili che utilizziamo quotidianamente, anche degli aspetti psicologici perché è ambiente anche il fatto che viviamo in un ambiente stressante e in un ambiente più rilassante. Quindi sono veramente tanti e è sempre più necessario un approccio multidisciplinare che veda coinvolti appunto non solo medici, biologi, psicologi, ma tutte le figure professionali che afferiscono all'ambiente. Quindi oggi veramente dobbiamo riunire tutte le nostre forze e cercare di portare avanti quei concetti appunto che in questi anni abbiamo cercato di sviluppare. Il concetto di resilienza come adattamento al cambiamento, il concetto di un'alimentazione sostenibile, cioè un'alimentazione che non danneggi l'ambiente in cui viviamo, ma che anzi lo preservi e quindi possa essere sana per noi, ma sana anche per le generazioni future. E dobbiamo capire appunto che è basilare comprendere sempre meglio il concetto di economia circolare, cioè un sistema economico che abbia alla sua base un'ecosostenibilità. Questo rapporto praticamente l'uomo-natura qui è rappresentato in un'installazione artistica nelle foreste scozzesi, però è l'ambiente che noi dobbiamo, è proprio un ritornare a una certa naturalezza, riequilibrare certi squilibri, certe alterazioni che si sono avute in questi anni, che deve essere anche uno dei nostri meccanismi fondamentali. Già appunto con il protocollo di Milano sull'alimentazione e nutrizione in occasione di Expo avevamo posto delle basi per un lavoro nel campo della sostenibilità dell'alimentazione e uno sguardo importante verso il futuro. In realtà forse gli obiettivi che ci eravamo proposti non sono stati del tutto rispettati, perché pensate che avevamo detto che entro il 2020 sarebbe stata ridotta del 50% lo spreco di cibo che c'è. Forse qualcosa è stato fatto, ma senz'altro non abbiamo raggiunto questo obiettivo. E anche l'impegno verso l'agricoltura sostenibile, verso il benessere degli animali e quindi un controllo anche degli allevamenti intensivi. Sì, stiamo andando in quella direzione, ma c'è molto da fare. E forse pensavamo che in questi cinque anni di poter raggiungere dei risultati senz'altro ancora più concreti. E com'è il concetto di eredicare la fame, ma anche contrastare l'obesità, che è invece un problema emergente. Ma appunto tutto questo avviene perché forse non siamo riusciti a capire anche che oggi stiamo cambiando il paradigma scientifico. E siamo in quell'era in cui si dice che dalla genetica stiamo passando all'epigenetica, cioè oltre la genetica. Solo piccole riflessioni. In fondo la problematica del grosso del rapporto uomo-natura è una problematica degli ultimi due secoli, due secoli e mezzo, dall'era industriale. Perché è allora che è iniziata la dicotomia tra uomo e ambiente. E' allora che le scienze hanno aiutato l'uomo nella sua evoluzione, ma da una parte, oltre che creare un beneficio, hanno creato anche dei danni per l'ambiente. Inizialmente con l'era della chimica nell'Ottocento, leggevo poco tempo fa come per esempio la soda e la fabbricazione della soda ha rivoluzionato l'approccio all'igiene, ha portato delle migliorie importantissime per quello che era il campo igienico-sanitario dell'uomo. D'altro canto, però, l'industria chimica, anche quella per i farmaci che hanno aiutato, ha aumentato l'inquinamento delle falde acquifere, l'inquinamento dei terreni. E quindi questo è stato... Nel Novecento poi la scienza medica ha utilizzato però per esempio le reazioni chimiche anche per la diagnosi. Nel Novecento, senz'altro, potremmo definirla l'era della fisica, appunto i raggi X hanno portato un controllo e una possibilità di diagnosi delle malattie rivoluzionario. La stessa radioterapia ha avuto degli impatti senz'altro positivi. Le industrie meccaniche, elettroniche, l'informatica, però abbiamo avuto anche le problematiche dell'energia nucleare, che se malutilizzata può essere di forte danno. Quindi, e poi appunto nel 2000, senz'altro, la possiamo definire l'era della genetica. Io parto sempre da quello che è un po' il mio campo di formazione, quello della diagnostica. Abbiamo capito che i segreti della vita erano nel DNA, abbiamo immaginato appunto la trasmissione dei nostri caratteri a partire da Mendel e poi con l'individuazione del DNA. Alla fine del Novecento, con le tecniche di biologia molecolare, abbiamo definito i geni. Anche questo ha portato dei vantaggi nel campo della diagnostica, nel campo anche dell'ingegneria genetica e in alcuni campi medici. D'altro canto ha portato anche a delle problematiche, per esempio quelle dell'OGM, della minore biodiversità. E quindi oggi in che fase siamo? Forse siamo già oltre, perché ci siamo anche resi conto, e questo subito dopo gli anni 2000, quando appunto pensavamo che di lì a poco con la determinazione del DNA e dei geni, dei singoli geni, avremmo trovato una spiegazione per tutte le malattie, avremmo trovato il gene del diabete, il gene dell'obesità, il gene correlato ai vari tumori. Ma non è stato così. Ci siamo resi sempre più conto che il singolo gene non aveva poi un significato, erano un campo di studio abbastanza limitato, quei 20.000 geni che sono a comune con piccole variazioni in ogni soggetto, ma che la soggettività era legata più a fattori ambientali che andavano a modificare il gene. E questo quindi ci porta alla visione dell'epigenetica, oltre la genetica. E secondo me questo è anche una visione che dà da una parte delle preoccupazioni, perché ci fa capire come l'ambiente influenza il gene, e quindi soprattutto più che il gene la struttura del DNA, l'attivazione di certi meccanismi. ma come noi possiamo anche appunto, modificando l'ambiente, e come ambiente appunto sia l'aspetto ambientale, chimico, fisico, ma anche psicologico, come da questo punto possiamo andare a influenzare anche dei geni che non sono magari favorevoli. Quindi ci rimette quasi in mano il nostro destino. Non so se questo concetto è abbastanza, però è un concetto fondamentale. Oggi dobbiamo superare un po' quella visione meccanicistica in cui noi pensavamo appunto il DNA, il gene, la proteina, l'errore metabolico. Abbiamo visto che non è tutto qui. Innanzitutto dobbiamo capire forse ancora molte cose del nostro patrimonio genetico, per esempio il significato delle zone del DNA non codificanti, delle proteine che regolano la struttura del DNA, i meccanismi di trascrizione. E in fondo il DNA non lo dobbiamo più vedere come una sequenza di basi azotate, quindi una struttura con una sua chimica determinata e una struttura fisica, ma forse siccome sappiamo per esempio oggi che certe frequenze musicali possono attivare o disattivare il nostro materiale genetico, forse è pensabile anche come un'antenna il nostro DNA, non solo quindi con una visione così meccanicistica. E' in questo campo appunto che si apre il campo dell'epigenetica. Ora non posso approfondire troppo, però l'epigenetica appunto è il fatto che il nostro DNA può essere attivato, aperto, chiuso, una specie di switch on off, a seconda che dei meccanismi particolari, in particolare sono stati studiati meccanismi di metilazione, di acetilazione, ma probabilmente ci sono anche altri meccanismi che dobbiamo approfondire, questi possono chiudere o aprire il nostro DNA. E questo meccanismo di accensione o spengimento del materiale cromosomico è quello che è alla base per esempio della differenziazione dello zigote nell'embrione di tutti i tessuti. Noi ci sviluppiamo correttamente con dei meccanismi epigenetici. Questo meccanismo poi non si perde quando l'individuo è già sviluppato, ma si mantiene nei tessuti questa capacità e questa è attivata per esempio da sostanze chimiche, ma anche da nutrienti particolari, dal movimento, ribadisco, dallo stato psicologico e si è visto che sono questi meccanismi che regolano le malattie metaboliche, quindi quali per esempio il diabete, ma anche le malattie immunitarie come l'asma, le malattie tumorali, le degenerazioni del sistema nervoso, dall'autismo all'Alzheimer. Quindi capite che è un approccio completamente diverso a quello che potevamo avere di visione delle malattie qualche anno fa. Cioè non è un incidente di percorso la malattia, ma è spesso il cumulo di stimoli negativi, che però possiamo anche contrastare. E questo è uno schema che io trovo particolarmente significativo e riporto sempre. Vedete come un soggetto viene rappresentato come una serie di sottoinsiemi in cui il core è la genetica, ma sottoinsiemi molto importanti sono l'epigenetica, il microbioma di cui oggi si parla tanto, cioè quei microorganismi che vivono in simbiosi con il nostro corpo, ma con tutto il nostro ambiente, perché noi dobbiamo studiare a fondo i microorganismi che sono nel terreno, che sono negli alimenti, che sono sulle piante e che sono una fonte di energia vitale anche. Noi abbiamo sempre visto negli ultimi anni questi microorganismi come qualcosa di dannoso, qualcosa da combattere con gli antibiotici, ma non tutti i microorganismi sono patogeni. molti sono esseri che ci forniscono anzi delle sostanze importanti per la vita, a noi, al terreno, agli animali e poi appunto in generale l'ambiente. Quindi oggi appunto si dice la genetica propone, ma è l'epigenetica che dispone e questi studi sono quelli che secondo me da qui a qualche anno cambieranno notevolmente tutto l'approccio al concetto di benessere e di salute. Non so se questi concetti di epigenetica vi sono stati chiari, non sono concetti molto semplici da spiegare in pochi minuti, ma forse ce lo spiegano meglio le api. voi pensate che il patrimonio genetico delle api operaie e dell'ape regina è lo stesso. La differenza è semplicemente nel fatto che l'ape regina è in un certo ambiente e gli viene dato un certo tipo di alimentazione diverso dalle api operaie. Quindi pensate anche voi che in fondo anche per noi a seconda di dove viviamo e di che cosa ci viene dato come nutrimento possiamo avere una vita completamente diversa e delle capacità completamente diverse come sono quelle delle api operaie rispetto all'ape regina. Questi, vedete, sono tutti quei fattori che influenzano la struttura diciamo del nostro DNA. E vedete, è la dieta qui all'apice ma anche l'alternanza delle stagioni, l'alternanza del ritmo sonno-veglia, dei ritmi circadiani, l'esposizione a malattie, a sostanze tossiche, a farmaci, lo stato finanziario, ma in effetti lo stato di benessere, l'attività fisica, il microbioma, i microrganismi, i farmaci, anche certe terapie alternative. Per esempio, tanto successo oggi delle medicine orientali sembra quasi una moda, ma invece è perché le medicine orientali forse hanno tenuto più conto anche di certi fattori diciamo energetici diversi da quelli della medicina tradizionale e probabilmente appunto alcune tecniche dallo Qigong a caso sembrano essere dei meccanismi epigenetici piuttosto potenti. In generale l'interazione sociale e lo stato psicologico. Questa è una slide di uno dei massimi esperti, il professor Burgio, che l'altra settimana appunto avevamo a Firenze e che mi sembra particolarmente importante. Una settimana fa appunto è stato presentato in consiglio regionale un documento che è un progetto diciamo di prevenzione primaria sottoscritto da un'associazione di architettura e biogeologia con medici, biologi ma anche appunto architettico per la tutela dei primi mille giorni di vita cioè perché appunto l'effetto epigenetico è massimo nel periodo dal concepimento la gravidanza e i primi due anni che sono gli anni di maggiore sviluppo dell'organismo. Vedete tutti questi fattori possono dai pesticidi a lo stress fetale e altre le sostanze obesogeniche influenzano la placenta e lo sviluppo embrionale. Anche qui dobbiamo superare il concetto che la placenta fosse un filtro protettivo per il feto. in realtà la placenta è un filtro che concentra tutte le sostanze per esempio chimiche quindi è un periodo particolarmente delicato in cui la madre deve stare particolarmente attenta all'ambiente in cui vive e a quello di cui si nutre perché il rischio è che appunto vi siano delle alterazioni a livello dell'organismo che portano poi magari anche in tarda età ma a malattie cardiovascolari a malattie allergiche a malattie tumorali a alterazioni del sistema nervoso quindi capite che si rivela sempre più importante questa attenzione in questa fase questi sono appunto alcuni degli studi che il professor Bugio ha presentato su come l'ambiente è responsabile della alterazione che ci possono essere nella programmazione fetale e come questa alterata programmazione fetale ricade su alcune patologie quindi grande tutela per i primi mille giorni di vita che sono la fase importante in cui si studia si disegna il destino poi di tutta una vita se noi non interveniamo su questo con le problematiche ambientali che ci sono oggi rischiamo che le generazioni future abbiano delle problematiche di sopravvivenza delle problematiche sanitarie molto superiori a quelle che abbiamo avuto noi o i nostri antenati e quindi attenzione all'ambiente attenzione all'attività fisica attenzione ai fattori psicologici agli inquinanti ai farmaci alle sostanze chimiche perché tutte queste possono agire sul nostro organismo e cosa mi auspico e vado a concludere oggi è importante innanzitutto una maggiore consapevolezza una collaborazione multidisciplinarietà un'integrazione anche tra medicine orientali e medicine occidentali perché tutte hanno avuto diciamo un certo sgruppo e delle conoscenze ma probabilmente in direzioni anche diverse un'attenzione all'attività fisica perché oggi la sedentarietà è una delle principali patologie che ci affligge e in generale attenzione all'ambiente alla natura ma anche all'ambiente costruito appunto il sostegno di architetti di designer è essenziale in questa fase con questa vi ringrazio e spero di aver sollecitato la vostra attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti